Il segreto a trame Spagna, Iulietta terrorizzata da una visita, chi sarà? Le trame spagnole del segreto ci svelano, che qualcuno di molto pericoloso giungerà a Puente Viejo. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il segreto, la sua popera, che ha appena annunciato donna Francesca distruggere Cristobal nelle prossime puntate italiane, le trame spagnole ci svelano, che a Puente Viejo giungerà un personaggio misterioso legato a Iulietta Uriarte. Anticipazioni e il segreto, Iulietta riceve una visita inaspettata. Le anticipazioni delle puntate spagnole del segreto andate in onda in Spagna in questi ultimi giorni ci svelano, che Iulietta deciderà di rimanere a Puente Viejo. Come anticipato la giovane aveva chiesto a Iesus di sostituirla nella costruzione delle case, nel frattempo crollate per colpa di donna Francesca. Dalle ultime novità si evince, che Don Ignacio giungerà a Puente Viejo alla ricerca di Iulietta, mentre tutte le donne di Puente Viejo avranno paura di lui. Intanto Iulietta riceverà la visita di Don Ignacio, dove esigerà delle spiegazioni sulla fine di Ana. La Uriarte sembrerà incapace di raccontare tutta la verità sulla morte della figlia, tanto da inventare una scusa. Dalle ultime novità si apprende che Ignacio si renderà accolto, che Ana non è presente in quella casa, sebbene ci siano sempre degli oggetti personali in giro. Iulietta attaccherà il forestiero, che si mostrerà esterefatto dal suo comportamento. Infine Dolores cercherà di mascherare la sua depressione dopo il ritorno di Tibucio nel mondo del circo. Spoiler il segreto Iulietta scopre che Don Ignacio abusava della madre e dagli spoiler delle nuove puntate del segreto trasmesse in Spagna. Si evince, che Iulietta scoprirà con orrore, che Don Ignacio è suo padre, tanto che Consuelo le racconterà che sua madre era stata oggetto di abusi da parte sua. Dalle ultime novità si apprende che Don Ignacio negherà ogni addebito tanto da rivelare di aver amato la madre di Iulietta con tutto il cuore. A proposito l'uomo si recherà a piangere sulla tomba di Ana, tanto da confondere le idee a Iulietta. Intanto Francesca assisterà in prima persona ad uno scontro tra Don Ignacio e Saul, mentre Marcella penserà di essere entrata in travaglio, Nicolas diventerà avvocato per aiutare il latifondista ad uscire dal carcere. Come anticipato il marito di Candela sarà accusato di aver somministrato dei farmaci letali a Venancia, infine Emilio temerà che sia successo qualcosa di grave a Iulietta, visto che non è arrivata alla locanda. Per scoprire se Iulietta e Don Ignacio si riappacificheranno non vi resta che leggere le nuove anticipazioni su Il Segreto, cliccando il tasto Segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore.